Una nuova delibera regionale ha cambiato le regole nelle strutture residenziali per anziane, le cosiddette RSA, visite libero all'interno con Green Pass per un totale di 45 minuti. Oggi siamo stati a Villa Santa Teresa nel comune di Bagnoarripoli. Dunque, le visite sono state organizzate già da tempo, come era secondo noi meglio e più opportuno fare. Nel senso che abbiamo avuto la stanza degli abbracci, abbiamo avuto locali addividuti alle visite. Adesso, per fortuna, lo possiamo fare all'esterno, appunto in giardino. Sono visite sempre alle quali sovrintendono i nostri collaboratori. Permesse a coloro che hanno il Green Pass, quelli che non hanno il Green Pass soffriscano ancora della stanza degli abbracci. E i 45 minuti, un discorso che non serve a nulla, è puramente teorico, perché le visite sono sulla base delle esigenze del paziente. Il paziente dopo un quarto d'ora si stanca e il paziente invece di 45 minuti ha bisogno di un'ora. Nella nuova delibera c'è anche la novità, ovvero la possibilità di uscire dalla struttura per un ospite. Nel momento noi non facciamo uscire nessuno e per il momento continuerà così, poi vedremo, vedremo l'evolgere della situazione, vedremo cosa potremo fare. Noi abbiamo, finché gli ospiti sono qui dentro, il compito di tutelare la loro salute. La salute degli ospiti è il nostro principale obiettivo. Quindi vedremo nei prossimi giorni quello che accadrà. Quale futuro? Il personale dell'RSA ha lavorato duramente anche con compiti spesso non usuali nel periodo di Covid. Adesso molti sono stati assunti nelle aziende sanitarie, lasciando sguarniti i posti all'interno delle strutture. Quindi quale futuro? Quindi l'RSA ha subito un anno e mezzo di uno stress indicibile. Il personale è sottoposto a uno stress pazzesco. Abbiamo avuto un personale molto personale, soprattutto infermieristico e os, che è stato assunto nel pubblico e quindi abbiamo anche questa difficoltà. Pertanto cosa succederà? Non glielo so dire, vediamo che succederà.